Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Game Play Ita, oggi siamo su Age of Darkness Final Stand. È un gioco che è uscito in Early Access il 7 di ottobre, costa 21,99€ e rimarrà in Early Access per almeno un anno, quello che dicono gli sviluppatori, perché intendono ascoltare la community e portare il gioco il più pulito possibile al rilascio. Quindi aspettiamocelo in uscita a fine 2022. Non so di risassare in italiano, al momento non lo è. È un gioco che ricorda moltissimo, e credo non lo nasconda nemmeno, dei Rebellions. Mentre lì eravamo contro degli zombie, qua siamo contro i notturni, insomma, delle creature malvagie. E il gioco ha un ciclo giorno-notte che appunto focalizza la nostra preparazione nelle parti diurne, mentre la difesa, quindi diventa da uno strategico anche una sorta di tower defense, per quanto riguarda le ore notturne. Possiamo giocarlo in normale o easy? Io lo gioco easy, e sapete perché? Se non lo sapete, non avete visto le mie live nel periodo brutto del 2020, dove io streamavo praticamente quasi ogni giorno, e ho portato questo gioco un pomeriggio e ci ho fatto abbastanza di fuoco. Ok, qua c'è il punteggio che viene dato a 1.0, qua ci dà metà punteggio, però non ci tengo troppo a fare figure. Il bello del gioco è che poi ci sono degli eroi che poi potremo, e sbloccheranno, potremo sbloccare noi, ma sbloccheranno anche gli sviluppatori. Ci saranno, come potete vedere qua, degli scenari. Al momento abbiamo una modalità survival. Possiamo configurare a mano la difficoltà, quindi scegliendo la durata, la densità dei nemici. Sappiate, particolarità nota del redattore, che si potranno vedere a schermo fino a 70.000 notturni invaderci. Abbiamo Edwin, il possessore e mantenitore della fiamma. Ha un'abilità di crack fire, è un colpo esplosivo che attacca e infligge danno da fuoco. Enflame, diciamo, infiamma l'arma. E invece Enlightning è un'abilità passiva, l'unica delle tre passive. Praticamente le unità vicine aumentano. Emboldening, che non so cosa sia. Comunque, iniziamo. Non aspettatevi una gran vittoria, anche a livello facile, perché io non sono abbastanza un cane in questo gioco. Ci godiamo il tutorial, ce lo guardiamo, lo proviamo a vedere come comincia. Benvenuto a Age of Darkness The Final Stand. Prima di cominciare è importante capire che non è un gioco facile. Tu fallerai. Presta attenzione e impara dai tuoi errori. Fai il tuo meglio per sopravvivere contro gli incubi. Li chiama gli incubi. Ok, bellino qua la grafica. Muove così. Non so se poi effettivamente ci sarà un modo di ruotare, però... Il gioco non ci spiega praticamente nulla. Ci muoviamo muovendosi con le frecce, non con il VASD. E quindi abbiamo... Vediamo un po'. Vediamo un po' che truppe abbiamo. Abbiamo aceri. Che diciamo che inizio già a spostare qui. Abbiamo due soldier. Vediamo se posso selezionare il call control. Sì. Abbiamo due aceri. Un altro acero, scusate, che va insieme a questo. E poi abbiamo il nostro eroe, Edwin. Dobbiamo sopravvivere. Quindi che cosa facciamo? Non ne ho idea. Allora, praticamente popolazione. Possiamo aumentare il conto della popolazione. Possiamo costruire la difesa. Quindi costruire delle mura, dei cancelli, delle torri difensive. Potremmo iniziare a mettere una torri difensiva qui. Poi vediamo un po'. Popolazione. Possiamo costruire queste case. Che mantiene all'interno 4-12. Poi ci sono le lodge. 6 cittadini. E ci dà oro più 18. Qua invece ce ne dà più 6. E abbiamo la casa vera e propria che ci dà 30 roi. E 8 villager, 8 cittadini. Richiede però una ricerca addizionale. Con spazio mettiamo in pausa. Queste sono light. Praticamente quando i personaggi in gioco vanno al buio. Diciamo che subentra uno stato di horror. Quindi di paura. Qua abbiamo la possibilità di raccogliere delle risorse. Con la capanna del cibo. La capanna della taglia a legna. E la quarry per scavare pietra. La farm per provvedere col cibo. Abbiamo la quarry. Quindi la cava rifinita per scavare ulteriori metalli. Abbiamo la farm rifinita per fare ulteriori. Appunto. Lenname. Scusate cibo. Abbiamo la military. E la advanced. Che sarebbe praticamente il workshop per ricercare. Tutto quello che riguarda le semplici tecnologie. Lo storehouse per aumentare le risorse. Cap delle risorse che vediamo qua in basso a destra. Di 50. Abbiamo il workshop rifinito. Per ricercare tecnologie più avanzate. E la forgia che ci permette di creare balliste. E unità di fuoco. Abbiamo lo skill tree delle unità. Quindi possiamo andare a ricercare delle cose. Spendendo delle risorse. Tra l'altro questo dovrebbe essere... Anzi. Vale per tutte le unità. Ripara tutto. E qua select keep. E qua costruisci nuove strutture. Ok. Non saprei neanche cosa fare. Perché... Stiamo guadagnando dei soldi. Potremmo iniziare già a produrre qualcosa. Abbiamo costruito questa torre qui. Possiamo iniziare magari a fare un po' di... Scusate che cibo qui. Facciamo un po' di difese magari. Ci chiede del legno. No. Io farei prima una raccolta di materiali. Di risorse. Lumberyard. Eh sì. Direi di farla qui. Vedete che poi ci dà un tot di entrate. In base a dove la posizioniamo. 11. Direi che è la posizione ideale. Qua sembra una cava. Però iniziamo a fare almeno anche del legno. Perché... In alto vediamo appunto tutte le nostre unità. In basso vediamo la popolazione. Che è di 5 attualmente. Allora. Gather location. Ok. Basate sulla... Ok. Vi ho spiegato in sintesi. L'abbiamo un'entrata d'oro che è piuttosto costante. Sta arrivando anche al massimo. Il legno l'abbiamo finito. La pietra l'abbiamo finita. Il ferro l'abbiamo finito. E l'essenza oscura l'abbiamo finita. O mai avuto meglio. E si ottiene penso uccidendo i nemici. Comunque al momento... Non abbiamo controllo comunque sui cittadini. Quindi dobbiamo... Abbiamo iniziato adesso a lavorare... Possiamo scegliere il numero di cittadini che lavorano al legname. E con passo felpato. Ma diciamo anche un po' flemmatico. Vanno e portano il legname a casa. E ce ne portano 11. 11 ogni quanto non lo so. Ma qua abbiamo un tempo che diminuisce in secondi. Verso la... Diciamo la... La discesa delle tenebre. Quindi possiamo iniziare magari a costruire un gate. Un gate che posizioniamo magari... Uno solo possiamo farne? Scusate. La notte arriva. Grande pericolo. Più la notte difficile. Più ci dà il conoscimento. Più ci dà i primi. Ci costa 5 di legname. E riusciamo a farne poche credo. Sì possiamo farne tale. E iniziamo a costruire. Brutto che costruisce da solo. Senza a tenere conto di cittadini. Cittadini vabbè. È tutto molto molto semplificato. Graficamente carino devo dire. Diciamo di tenere le nostre troppe un po' sul chi vive. Perché non sappiamo c'è la nebbia di guerra. Quindi sta arrivando la notte. Adesso dobbiamo sopravvivere alla notte. All'assalto dei notturni. Dobbiamo tenere d'occhio dove sono. Perché arriveranno. Ecco vedo già qualcosa lì dietro. Però li vedo anche qui che si stanno avvicinando. Ma non sferrano l'attacco. Speriamo di resistere. Eccoli lì. Ok. Io li porterei tutti là. Via. Le nostre defenze sono sotto attacco. Sì. Si attaccano di là. Spero non facciano un attacco combinato. Perché sennò... Ok. L'hanno già ucciso. Hanno danneggiato la casa. Io clicco su Repair. Spendiamo 16 gold per ripararli. E però cavoli. Cato devo far... Tornare giù un paio di... Una cere. Facciamo due va. Perché... Dobbiamo difendere anche dall'altro lato. Vediamo quanto manca alla fine della... Ok. Qua ce lo dai minuti. Quindi un minuto e mezzo bisogna resistere. Stanno già attaccando le... Questa è stata una grande idea. Perché... Muoiono subito. Sarà la difficoltà facile. Comunque. Continuiamo. Eh li vedo. Li vedo che... Che si arpeggiano nell'oscurità. Dobbiamo resistere. Questo invece. Tower. Ok. Praticamente. Possiamo mettergli unità all'interno. Sì. Perché al momento credo che non ci sia nessuno all'interno. Quindi li dobbiamo trovare. Anche qua. Credo nel militare. Non abbiamo guardato. C'era la training goal. Ci costa un bel po'. È intrigante perché richiede i materiali. E ci invoglia a farli. Per poter costruire la nostra cosa. Poi al momento non essendoci una vera e propria storia. Al momento... Si gioca così. Insomma. Senza uno scopo. Cercando di sopravvivere il più possibile. È un gioco sicuramente da tenere d'occhio. Ed è un gioco che non costa certo poco. Ma... Appunto. Per gli appassionati di giochi di questo tipo. Credo possa essere una bella sorpresa. Esploriamo un po' intorno perché... Vediamo in quanto tempo muoiono questi qua. Non sono tantissimi. Però già ho visto i video di qualcun altro. Che praticamente... Attaccano in massa già dagli attacchi successivi. Quindi bisogna imparare. Ed è intrigante il fatto anche che all'inizio sbaglierete. Vi focalizzerete su cose sbagliate. E perderete la partita. Andiamo. Arrivato il giorno. Vediamo se si sciolgono un po' come i... Gli zombie di Minecraft. O meno. Ma non credo. Però non attaccano più. Eh... Bisogna assolutamente potenziare il cibo. Potenziare anche... Vedete qua abbiamo la popolazione. Qua le razioni di cibo. Che tra un po' finiranno. Quindi dobbiamo darci la mossa. Io ho detto ripara tutto. Quindi abbiamo usato un po' di legno. Eh... Vediamo se riusciamo subito a fare il cibo. Perché se no... Mannaggia. Ci serve una ricerca addizionale. Food hut. Eh... Vediamo se... 8 di cibo. 7. 10. Eh... Qua è una bella zona eh. Per fare del cibo. Facciamola lì. Eh... Abbiamo già speso tutto. Poi ovviamente rimango disponibile. Qualora lo vogliate vedere ulteriormente. Portato magari in live o... Con qualche altro video. Però... Diciamo che non c'è mai una richiesta sufficiente. Per poter imbastire un altro video. Quindi io... Mi concentro ultimamente. Soprattutto sulle nuove scoperte. Allora... Vediamo un attimo. Io farei anche una cosa di questo tipo. Facciamo un cancello. Qua. Riusciamo a metterlo qui. Ok. E un muro. Qua. Così che... Iniziamo già un pochino a... Coprirci un po'. Anche ad esempio qui. Un muro ci starebbe bene qui. Così iniziamo già a coprirci un po'. Più lati. Eh... La capanna qua fa un po' da parafulmine. È vero. Però... Vediamo se riusciamo a piazzarne in alto qui. Due qui. Ok. E dovranno fare un bel giro. Sto vogliono arrivare là. Però... Dio, dio. Passano il giro anche lì. Non so, a dire la verità, se esista... Un modo... Di ruotare la visuale. Rotate building con tab. Camera. No. Non credo esista un modo di ruotarla. Con il visuale è così. A ruotare gli edifici ma non... Intanto abbiamo il cancello qua. Vediamo come si apre. Ah no, entrano normalmente così. Senza... Necessivi problemi. Quindi penso valga per gli amici. È molto simbolica come cosa. Non si vedono troppi cittadini. Non si vede nulla. Qua ci lavorano in una persona. Abbiamo quattro persone totali. Eh... Dobbiamo continuare. Dobbiamo... Vorrei almeno in questo video farvi vedere il workshop. Se riesco. Insufficienza resources. Eh... Sì. Ci servirebbe il legname. Stiamo cliccando qua. Abbiamo la possibilità di vendere. E ottenere il legname. E ripararlo. No. Il legname ce ne serve parecchio. Quindi... Potrei anche pensare di farne un altro. Fare un altro legname. Al momento. Perché pare che comunque il legno sia fondamentale. Odat. No. Facciamo questo. E poi facciamo magari anche un'altra casetta. Magari se riusciamo. Sei... Hai finito il villager. Sì. Lo so. Lo so. Lo stavo per fare. Population. Dwelling. Questa è un'altra casetta qua. Li piazzo vicino qui. Perché comunque sono belle... Belle vicine. Non dovrebbero darci eccessivi problemi. Stiamo già per finire la giornata. Un'altra giornata. E dovrò... Fare la ricerca. E vedere come funziona. E soprattutto potenziare le mie armate. Perché è ok. Ho l'eroe. Con le sue abilità. Qua abbiamo la possibilità di potenziare. Penso valga per tutti. Quindi. Abbiamo le abilità di assedio. Quindi movimento. La possibilità di spingere indietro i nemici. Il danno ad aria. Le abilità a distanza. E le abilità melee. Allora. Uno provo a metterlo qua. Vediamo se... Lui intanto... Può muoversi anche nell'oscurità. Ma non può usarlo perché... Vabbè intanto lui si è messo sopra. Quindi vediamo che qua sotto c'è un'unità. Le metto qui così almeno se si attaccano li vedono. Ok è scesa la notte. Abbiamo due... Perché qua... Qua si passa. Il problema è quello. Si passa e si entra qualcuno. Sono cacca... Infatti... Uh... La si attacca da lontano. Caspita. Le difese sono sotto attacco. Sì è bello certo. Ma li abbiamo già finiti. Ok bravo. Bravo. Questo è un bel range d'attacco. Che comunque ce ne accorgiamo se qualcuno arriva. Ok qua è chiuso invece. Qua è mister di noi invece. Però copriamo anche questa zona. Full storage. Costruisce uno storage. Eh sì perché abbiamo il massimo d'oro e il massimo di legname. Questo è un bel problema perché... Allontana diciamo quelle che sono le nostre... Vabbè abbiamo bisogno di 10 cittadini quindi... Adesso costruiamo altre case. Dwelling ne facciamo altre. Che credo sia dwelling sia una baracca. Una baracca del genere. Ok. E' nato intanto quelli. Arriva qualcuno di là. Il nostro errore è fuori. I due qui non fanno una mazza. Però intanto stiamo difendendo. Vediamo intanto... Ah il cancello si è aperto. Ah ok. Eh no. Scusami ma dovresti attaccarlo solo tu. Riesci? Perché il problema è che... Dovevo impiazzare una torre anche qua. No no tu devi stare qui. E' presidiare lì. Ok. No ci demoliscono tutto. Cittadini ne abbiamo 8. Dai 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 dai. 8 su un massimo di... 3 case per 2,6. No facciamo un'altra casa allora. No c'è un combattimento. Dove? Merda. Via via fuggi fuggi sciocco sciocco. Ah il nostro eroe dovrebbe... Ah è lì che fa cazzeggia. Ok no mettete qua anche lui che mi copre... Mi copre la cella perché la cella stava per morire. Un'altra casetta. Eh facciamo fare un po' di... Ok. Abbiamo spianato. Successivi problemi. Dobbiamo espandere tutto il muro qua. Però loro lì si mettono ad attaccare. Che andrebbe messa una torretta anche qua. Che difende le mura. Magari più... E una torretta andrebbe messa anche qui. Vabbè comunque intanto il giorno è passato. Il giorno è passato non sono ancora morto. Possiamo fare il workshop credo. Adesso. Sì. Wood workshop. Minchia se è grande. Dobbiamo metterlo qua. Eh vabbè. Workshop sono usate per ricercare nuovi edifici. Perfetto. Così diamo un'occhiata anche quella che è la ricerca. Sarebbe bello fare anche qualcosa in militare. Io adesso ho concentrato troppo qua. In questa zona. Quindi. Purtroppo l'ho pianificata male. Faio un errore. Mi sentivo fortunato ad avere una zona. Parecchio difendibile. Ma in effetti. Vista anche la dimensione degli edifici. Insomma ci vorrà un po'. Eh venti di pietra. Quindi devo trovare una... Devo fare una quarry. Eh... Che la quarry mi serve. Dove... Posso farla? Sì. E la quarry dove la cacchia la facciamo? Qui. Mi dà... Zero. Proprio zero. Non c'è una miniera qua che si può fare. Ah bufazzo. È qua. È fatta qua. Mierdas. E non è un bel posto questo. Andrebbe... Si potrebbe fare anche... Dai. Mettiamola qui. Brutta come zona però. Che ci vogliamo fare? Voglio farvi vedere il workshop. Pieno lo finiamo di costruire. Perché almeno sappiamo... Vediamo bene come funziona. Al momento mi sembra abbastanza semplice. Cioè non è eccessivamente complicato come meccaniche. Nel senso arriva la notte. Difendi. Di giorno costruisci. Tutto tranquillo. La gente scava. Lavora. E amministrare. Poi adesso muoiono con un colpo. Quindi non è eccessivamente difficile. Vediamo se intanto riesco a... Ok, intanto il workshop si è messo in funzione. Quindi io vorrei stare un po' tranquillo e mettere un'altra torretta. Abbiamo la loggia. Sei villager. Ah, ok, no. Qua possiamo ricercare spendendo una barca di soldi. Adesso metto in pausa così vediamo insieme quelle che sono le espansioni di questo primo pannello di ricerca. Perché poi c'è il workshop avanzato. Abbiamo la farm. Farma, cibo ne abbiamo dieci. Mannaggia, ne produce venti. Ne consumiamo diciotto. Quindi buono ma non buonissimo. La loggia. Sei villager. Firescore è praticamente un attore che fornisce luce ad ampio raggio. Rimuove lo status di terrore. Il night walls è praticamente sblocca l'abilità di dare fuoco alle mura. Infliggere danno da fuoco sugli attaccanti a corpo a corpo. E i muri di braccia. Ok. Contro il minaccio, stessa cosa, una cosa un pochino più seria. Abbiamo il cancello di braccia anche lui. La torre di braccia. Il workshop è finito. Ne richiede tre ricerche. Abbiamo la ballista tower. Non abbiamo abbastanza risorse. E dobbiamo ricercare la ballista tower. Quindi anche lì dei prerequisiti. E qua possiamo vendere. Sai dire che potremmo ricercare... Non so. Questo. 150. Via. Intanto ampliamo le mura. Anzi facciamo una bella cosa. Facciamo una cosa militare. No, mi serve la pietra. La pietra non ne abbiamo ancora. Ce ne servono 20. Niente. Mi sa che perderemo. Vabbè, intanto facciamo così. Facciamo non light, ma facciamo qualcosa di... Non mi ricordo più dove è. Difese. Facciamo una tower. Mettiamo una tower anche qui. Così che attacchiamo tutto quello che non si muove. E ci piazziamo dentro lui. Un arciere. Quindi... Non dovrebbe essere anche qua una torre, ma vabbè. Così mettiamo lui qua sotto. A difendere. L'arciere lo mettiamo su. Appena finisce la torre lo mandiamo qua. Ah no, la cera lo mettiamo qua. Da poco finisce. Di costruire. Musica carina. Ok, questo lo mandiamo su insieme all'altro... Ah no, ma il soldato è lì sotto. Va bene. Allora, questo... Validate. Tu. Ah no, mannaggia, però ci serve perché ci attaccano le mura qui. Potrebbe essere un problema. Eh, vabbè, pazienza. Pazienza, ci attaccano le mura da lì, però ci serve un arciere. Quindi l'arciere lo mandiamo qua. Potrei dirgli di tenere la posizione. O pattugliare. Proviamo un po' la modalità pattuglia. Vediamo un po' come funziona. Pattuglia. Questa zona qua. Sì, dai. Ci sta. Lui pattuglia. Questo tiene d'occhio lì, perché c'è dentro la cera. E pattuglia tutta la zona lì. Lui pattuglia la zona qua. L'eroe gli dà una mano. La ricerca l'abbiamo effettuata. Tecnicamente. Infatti è sparita. Siamo arrivati alla notte. Non mi ricordo più cosa ho cercato. Ah, la luce, sì. La fire tower. Poi ci chiede anche il legno raffinato, quindi è un po' un problema. Eh, vedete. Allora, scusami, tu. No, 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 no. Tu. Non tu, non tu. Tu. Io gli dico di pattugliare. Allora, scusate, voi due fatte una cosa. Fate una pattuglia insieme da lì a qui. Così pattugliate lì. Lui pattuglia lì. L'altro tiene d'occhio. Questo invece pattuglia qua. Facciamo così. Metto qui. E pattuglia da lì. Così teniamo d'occhio tutto. Ok, adesso è tutto abbastanza automatizzato, quindi... Pian piano. Stiamo prendendo la prima pietra. Dovremmo raffinarla in iron, quindi ci servirà qualcosa per raffinare. Materiali. Trouse. Per il legno, perché ne abbiamo al massimo. Vabbè, ma chi se ne frega. Il legno facciamo le mura. Le ampliamo, le mura. Problema. E iniziano da raffinare già di più, eh. Quindi... Bene, bene, bene. Ci serve un'altra location di scavo. Quindi ci servirà... Ma non abbiamo villager sufficienti. Possiamo ricercare... Tanto di soldi ne abbiamo tanti. Possiamo ricercare la loggia. Dove mettere più cittadini. Invece che la semplice casa. Qua. Le protette. Cosa succede? Intanto le ronde sembrano piuttosto efficaci. Perché qua attaccavano, ma... Non abbiamo pensato. E qua non sappiamo cosa succede. Però adesso che vanno così, andrebbero sincronizzati meglio. Però diciamo che adesso funziona. Dato che uno dei due si è interrotto la ronda per andare a combattere, e poi si sono creati questi due percorsi completamente opposti, che fanno molto comodo. Intanto li stai cercando. Vediamo. Possiamo dare fuoco alle mura. No, io volevo fare... Mannaggia, ci servono 20 di pietra e non ne abbiamo. Voglio fare la cuore. Eh, ci mancano i villagers. Adesso ricerca questo e facciamo il... La casa. La casa che ci manca. Che è la loggia. La piazziamo. Chissà quanto grande sarà. Abbiamo. Ah, non abbiamo villager perché li abbiamo... Perché li abbiamo messi tutti a lavorare. Non ce li conta per quello. Perché una volta che lavorano, non sono più una risorsa spendibile. Lodge richiede brasset keep. Ah, no. Niente. Allora piazziamo un'altra casa. Siamo qua. Vediamo un attimo adesso. Io credo... Che il quarto giorno sia un devasto assoluto. E credo che tra due minuti pagheremo tantissimo quello che non abbiamo fatto gigioneggiando in questi quattro giorni in cui abbiamo agevolmente battuto tutti. Quindi io nel dubbio... Quindi io nel dubbio... Piazzerei... Piazzerei... Arceri... Ne ho uno lì. Però io nel dubbio ci piazzerei un... Una torre di arceria... Una torre di arceria... Anche qui... Perché... Lo metto qua... Così lui che sta girando come un matto lo fermo e lo mando sulla torre. Siamo per arrivare al culmine... Del giorno dei morti... Insomma come si chiama... The... The... The night... La notte della morte. Vediamo... 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 Intanto... Pietra ne abbiamo... Eh... Vorrei fare qualcosa di militare... Cazzarola... Per convertire dei cittadini... Intanto cittadini ne abbiamo... Quindi in teoria potremmo fare anche la cuore... E la cuore la possiamo fare... Per avere più pietra... Però... Non lo so... Aspetterei di avere 20 di pietra... E farei la training hall... Che così... Possiamo provvedere a darci ai soldati... Balestrieri... Credo siano gli arbalest... E le sentinelle... Poi gli arbalest... Magari non c'entra niente... Perché... Boh... È la... L'arco... E la balestra... Cazzo... Ma non è una balestra di sicuro... Vabbè... Intanto la notte arriva... Dai... 57 secondi... Quindi... Training hall... La possiamo fare... Vai... Let's build... Possiamo fare training di persone... Ne abbiamo 4 disponibili... Quindi magari riusciamo all'ultimo... A produrle... Non lo so... Mancano 40 secondi... A breve... Finiamo malissimo... Allora intanto tu... Vai su lì... Vedete che esce la... La bandiera... Quando c'è qualcuno all'interno... Lui difenderà questa zona... Fino qua... Lui difenderà questa zona... E lui difenderà... Quest'altro difenderà tutta... Questa zona qua... Quindi... Le mura... Ok... La notte sta iniziando... Sta iniziando... 16 secondi... Ma... Abbiamo già qualche attacco... Qualche abisaglia... Di cose che non funzionano... E... Niente... Vediamo adesso... Qui... Quando finisce questo... Cioè a brevissimo... Se riusciamo subito a convertire degli arcieri... Ok... Stop... Possiamo fare... Train soldier... Archer... Ci manca pietra... Ma la pietra... L'ho spesa tutta... Possiamo fare... Arbalest... Ah no... Ok... Probabilmente... Sono i balesteri davvero... Fatemi... Soldier... Perché... Spendiamo tutto quello che abbiamo... Abbiamo speso i soldi però... Ma ne abbiamo adegnati altri... Quindi possiamo farne ancora... Producetemi nel più possibile... Quattro posso farne... Quattro cittadini... In modo da avere più difesa... Perché... Ho bisogno di... Di difesa... Il prossimo lo mandiamo su... Prendere la zona qua... Tu vai qui... E aiuta a difendere lì... Perché... Adesso... Abbiamo due minuti di... Di passione qua... Ok... Inizia anche lui la ronda... Ma dai... Eh... Dai la mano anche tu qua sotto... Il prossimo che esce... Facciamola... Lo mandiamo su... Ok... Vai su... Ok... Mi hanno scoperto una zona qua... Che sembra essere molto interessante... Prendiamo a vedere... Giusto così per prova... Quanto... Quanto... Eh... Non posso... Però mi sa che qua è una... Un po' più ampia di questa zona qui... Come... Ricavo di roccia... Non so se poi la roccia... La roccia la trasforma in metallo... Credo... Comunque qua... Fanno... Sono in tre... Difendono... Ci sono quelli lì... Andava messa una torretta anche qua... Pazienza... Nel dubbio possiamo farci una casetta... Così possiamo espandere ulteriormente il numero delle unità... Tirabili... Ah no... No però il giorno della morte... Eh... Manca un giorno... Quindi non c'è ancora... Abbiamo il quarto giorno e poi ci sarà il giorno della morte... Siamo a corto di villici... Ok... Vabbè... In caso... Adesso interromperemo e vi farò... In caso sarete voi a dirmi se volete vedere la mia disfatta... Intanto... Ma... Così a occhio mi sembra di procedere bene... Perché comunque... Non ho eccessivamente... Sofferto finora... Però... Ok... Voi siete tutti qui... E... La casa l'ho fatta... Ho altre quattro villici... Possiamo produrre anche degli aceri... Spendendo anche della roccia... Che abbiamo scavato prontamente... Gli aceri ne piazziamo un paio qua... Perché ce ne sono bisogno... Ce ne sono bisogno... Va bene... Prepare your defenses... A crystal has become unstable... Eh... Raccogli il punto di interesse... Cioè praticamente ci dice di andare là... Il cristallo è diventato instabile... Ma... Quanti sono... Ragazzi... Io... Non lo so... A sto punto... Per la voglia di non far figure... Io interrompo qui... Salvo... Fatemi sapere che cosa ne pensate... Intanto... Il gioco... Non sembra essere assolutamente male... Per quanto si vede che comunque è uscito da poco... Di edifici ne è già abbastanza... Ma secondo me va ancora rifinito... Può diventare un bel gioco... Una bella alternativa... All'altro gioco... A... Quello che era un po' più stile... Steampunk... Che era... Day of Billions... 21,99€... Non è poco... Ma se siete degli appassionati di questo genere... Quindi del Tower Defense... Della costruzione e dell'amministrazione di risorse... Secondo me al momento non è neanche troppo difficile... Scappo... Tre minuti prima dell'attacco notturno... Che probabilmente raderà solo tutto... Perché non sarà... Insomma... Non è ben difesa questa città... Insomma... Però rimane comunque in mano vostra... La possibilità di dirmi... Fai un altro video... Facci vedere... Ovviamente... Una piccola precisazione... Io lo dico sempre... Ma non lo faccio mai... Ma semplicemente perché... Il numero di commenti che mi arrivano... Sono sempre pochissimi... E non c'è mai questa grande richiesta di... Fatemi sapere... Intanto il gioco è qua... Magari se si fa una live una volta... Ragazzi io con questo vi saluto... E vi rimando al prossimo video di gameplay... Alla prossima... E ciao ciao...